Gli alunni del sole, gli alunni del sole venite qua gli alunni del sole ecco, ciao, ciao a tutti dunque mettiamoci qua vicino al microfono e parliamo un momentino del vostro genere che è diverso dal resto della musica italiana cioè un genere mediterraneo, a me lo definirei così ti pare? Tu sei Paolo Morelli l'autore delle canzoni degli alunni del sole è un genere mediterraneo io lo definirei così perché non copiate nessuno no, una linea abbastanza personale diciamo italiana, mediterranea napoletana ecco perché voi siete napoletani cioè siamo due napoletani e due c'è la parte napoletana avete già diviso proprio i gruppi gruppo romano e gruppo napoletano dunque lo dicevo tu sei l'autore delle canzoni e hai sempre scritto canzoni in italiano però sì, ho sempre sì sempre così questa canzone è questa canzoncella perché non è una canzone, è una canzoncella è nata così questo è il titolo della canzone la canzoncella la canzoncella, sì cioè non è programmata una cosa programmata no, non è stata una cosa programmata infatti una sera così mi trovavo particolarmente disposto a fare della musica così e ho fatto questa canzone così sì, 4-5 minuti insomma 4-5 minuti sì, una cosa proprio spontanea veloce parola e musica parola e musica come tutte le altre canzoni di successo che ha fatto e allora l'abbiamo considerata così come un fatto immediato e siccome ci ha portato sempre fortuna tutte le canzoni come Pagliaccio, Jenny lo so ma voi siete critici con lui non siete cattivi oppure no, no non voglio dire insomma beh sì, sono pure no perché i complessi litigano diciamo la verità i complessi litigano spesso voi lo litigano tu ci conosci da 11 anni lo so siamo sempre gli stessi quindi il sangue ancora non scorre non scorre va bene allora questa canzoncella mi accompagno nel nostro teatrino va bene adesso si apre tutto automatico adesso vi spiego no, per dire questa è la batteria questa è la batteria lui è il batterista la riconoscirete pure ho il pianista Paolo Morelli questo è questo coso nero con tasti bianchi vedete questo è il basso esatto ecco e la chitarra è questa qua che ha quattro corde e questo ne ha sei basta sapete tutto bene la canzoncella grazie 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 Se innamorate me, ma senta me, non c'è manzà, e torna una tavola a tutti gli urlano.